L'està 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 La presentazione di Metal Gear Solid V Ground Zero su PlayStation 4 Per chi non ha subito il mio live per la prima volta Io sono solo disolato di essere parte della presentazione di PS Plus ma sono ancora un po' di due modi Ma presentazione di Metal Gear Solid V La presentazione di Metal Gear Solid V Le modi è rilascio di QTS Plus Le modi è rilascio di QTS Plus Grazie a tutti 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 Grazie.